buongiorno amici buon lunedì eccoci qui con una nuova lezione di blogging la lezione di oggi tratterà l'argomento instagram versus blog perché ho deciso di creare questa lezione perché molto spesso erroneamente si tende a definire oggi si tende a definire blogger quando in realtà si ha soltanto un profilo instagram invece se ci pensiamo proprio la parola stessa blogger presuppone l'avere un blog e come abbiamo visto l'avere un blog non vuol dire avere una pagina facebook o un profilo instagram ma avere un proprio spazio sul web su una piattaforma che può essere wordpress blogspot joomla o altri quindi appurato che per essere definito blogger bisogna avere un blog quindi un proprio spazio sul web qualcuno potrebbe chiedermi ma perché dovrei aprire un blog se io comunque con il mio profilo instagram nel quale ho non so migliaia di follower riesco comunque a guadagnare ad avere collaborazioni e cambio merci essere ospitato in hotel ristoranti eccetera beh innanzitutto perché il blog di tua proprietà mentre invece il profilo instagram no è di proprietà di zakenberry e potrebbe decidere di chiuderlo da un momento all'altro o comunque cambiare algoritmo e farti perdere di visibilità l'abbiamo già visto negli ultimi mesi che instagram comunque sta cambiando continuamente algoritmo e già tanti si stanno spostando su tik tok e non sappiamo se un domani instagram continuerà ad avere lo stesso valore che ha oggi se ci pensiamo anche facebook fino a qualche anno fa era il social per eccellenza invece negli ultimi anni ha già perso una grande fascia di utenti che sono tutti gli under 20 che non sono più iscritti su facebook ma sono soltanto su instagram e su tik tok l'ho visto di persona quando ho fatto lezione in delle scuole superiori dove tutti i ragazzini di 14 e 15 anni per alzata di mano hanno comunicato che molti di loro non erano proprio più iscritti su facebook o non erano mai stati iscritti su facebook eppure fino a qualche anno fa ciò era impensabile e quindi potrebbe succedere lo stesso su instagram fra qualche anno anche le stesse pagine facebook negli ultimi anni hanno perso di appeal e se non si fanno inserzioni vanno a perdere in visibilità e lo stesso potrebbe accadere un po alla volta anche su instagram in realtà un po sta già succedendo soprattutto quando si hanno profili aziendali profili business o comunque si fanno dei post sponsorizzati viene a perdersi la visibilità proprio perché sta diventando sempre più un social commerciale e quindi è importante avere un altro canale sul quale promuoversi che potrebbe essere appunto il blog perché il blog come vi dicevo è di vostra proprietà decidete voi quando aprirlo voi quando chiuderlo ma soprattutto quanto investire sul blog e renderlo visibile in secondo luogo se ci pensiamo una foto su instagram una visibilità massima di 24 48 ore che potrebbe arrivare a una settimana solo se finisce nei popular cosa non sempre facile e non sempre scontata soprattutto se viene scattata poi in un luogo molto inflazionato come può essere firenze parigi o milano addirittura se andiamo a fare una ricerca per hashtag o geolocalizzazione a distanza di una settimana sarà veramente difficilissimo rintracciarla a meno che non ci ricordiamo di averla vista su quel determinato profilo utente quindi andiamo a cercare direttamente sul profilo di quella persona mentre invece un articolo su un blog se scritto bene ben indicizzato può essere ricercabile e trovato anche a distanza di 4 o 5 anni dalla sua pubblicazione in terzo luogo io sono dell'idea che instagram è molto utile per invogliare gli acquisti di impulso quindi utile per promuovere l'acquisto di abiti accessori o prodotti beauty perché se ci pensiamo molto spesso vediamo la foto di un bellissimo vestito o di una bellissima borsa ci viene voglia di acquistarlo andiamo subito ad acquistarlo non ci pensiamo due volte diverso invece è il caso in cui si vuole promuovere turismo poiché l'acquisto di un viaggio non è un acquisto di impulso e quindi non viene fatto tramite instagram per quanto riguarda il turismo invece instagram è molto utile per creare ispirazione per far conoscere una determinata destinazione attraverso foto di viaggi quindi foto in luoghi bellissimi o che magari non conoscevamo e quindi far conoscere un luogo poco inflazionato o poco oggettonato ma poi prima di prenotare un viaggio le persone si informano cercano informazioni e lo fanno attraverso il motore di ricerca ed è lì che trovano i blog o i siti di viaggio e attingono informazioni quindi la differenza per quanto riguarda il turismo tra instagram e blog che su instagram si genera la voglia di partire per una destinazione ma poi questa voglia accresce attraverso la ricerca sui blog i blog infatti sono utili per dare informazioni perché i blogger sui loro blog personali raccontano delle loro esperienze di viaggio e quindi danno dei consigli che hanno vissuto in prima persona spiegando anche magari delle esperienze positive o negative e quindi sono utili proprio per attingere tutte le informazioni prima di prendere una decisione ovviamente con questa mini lezione non voglio dirvi di non considerare il vostro profilo instagram di investire tutto sul blog semplicemente voglio aprirvi gli occhi e farvi capire che è molto più importante investire sul blog piuttosto che sul profilo instagram che però non va trascurato perché anche instagram è comunque molto utile per portare traffico al blog e anche per avere una propria community e quindi una propria nicchia di riferimento semplicemente non trascurate il blog per instagram perché poi potreste pentirvene perché adesso instagram funziona tantissimo e viene molto richiesto delle aziende un domani le aziende potrebbero richiedere un altro social e quindi vi ritrovereste a dover ricominciare il lavoro da zero mentre invece il blog se viene comunque gestito con costanza e determinazione man mano cresce resterà comunque sempre il vostro canale privilegiato